Un'altra giornata nera per i trasporti in Liguria. Lo sciopero generale di 4 ore previsto per martedì 17 gennaio coinvolge il personale delle aziende di trasporto pubblico locale. La protesta a cui aderiscono CGL, CISL, Will, CISAL e UGL è stata indetta contro l'inerzia dimostrata dalla regione nella portare modifica alla legge regionale 3198. In pratica i sindacati indicano la necessità di individuare un bacino unico regionale a cui affidare i servizi di trasporto pubblico locale con l'introduzione di efficaci sistemi economici premianti per favorire la costituzione di un'azienda unica regionale. In provincia di Genova lo sciopero si svolge dalle 10.30 alle 14.30, in provincia di Imperia dalle 11 alle 15, in provincia di Savone la Spezia dalle 10 alle 14. I sindacati chiedono alla regione di garantire le risorse necessarie alla sopravvivenza delle cinque aziende di trasporto pubblico locale, la salvaguardia degli attuali livelli di servizio, la garanzia della continuità occupazionale dei quasi 5.000 lavoratori e il mantenimento dei trattamenti economici e normativi acquisiti contrattualmente.